Ciao, mi chiamo Sara Ricci, ho 21 anni, se ci serviva un attimo di ragionamento per questa cosa. Sono alta 1 metro e 67 centimetri e la mia agenzia è la cantera management. Sono nata a Massa, io vivo a Massa, in cima alla Toscana, proprio sul Cufuzzolo, e faccio l'università a Pisa. Faccio questa facoltà, si chiama scienza delle educazioni, quella che facevo prima, scienza della comunicazione, mamma mia che figlio. Vabbè, grazie a Dio infatti, perché ho cambiato, no? All'università una volta e grazie a Dio ho trovato questa facoltà che mi piace tantissimo. Per quanto riguarda le lingue straniere, il mio livello di inglese è inglese e b, sto facendo anche un corso per l'appunto all'università e tra poco dovrò sostenere l'esame, quindi speriamo vada bene. Ultimamente quali sono le novità? Ho scoperto di essere più atletica di quanto pensavo, perché faccio arrampicata, sto prendendo delle lezioni, anche questo l'ho scoperto grazie all'università, in realtà un po' per amore, perché andando dietro una persona ho scoperto che esiste lo sport dell'arrampicata e io non ne avevo idea. Fantastico! La recitazione ovviamente è la mia passione, spero che diventerà il mio lavoro, il lavoro della mia vita. Faccio recitazione da quando ho 10 anni e non ho mai smesso, mai, 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 sempre la costante della mia vita, diciamo. E una cosa che mi definisce sono sicuramente le canzoni depresse, perché le canzoni depresse sono un'altra costante della mia vita, soprattutto l'Ana del Rei. L'Ana del Rei me la metto in cuffia e tutto il mondo sparisce nell'asse in macchina. Magari sembrano soporiferie, però in macchina io per non addormentarmi le metto tipo a 60, per non boom, boom, boom. Fantastico! Va bene, grazie mille. Grazie mille.